e dunque come sapete io utilizzo come mie macchine principali i mac e quindi ho pensato di raccontarvi quello che è il mio desk setup rivolto al mac come ho detto nel titolo si tratta di un desk setup molto costoso ed oggettivamente così ma ovviamente vi racconterò come in parte sono riuscito a comprare alcuni dei prodotti che vedrete nel mio desk setup a cifre decisamente più basse rispetto a quelli che sono i prezzi di listino ma in ogni caso non voglio dilungarmi troppo e quindi andiamo a conoscere più nel dettaglio qual è la mia postazione lavoro e come è stata composta nel tempo partiamo innanzitutto dalla base di qualsiasi desk setup vale a dire la scrivania da questo punto di vista si tratta di un modello realizzato dalla flexi spot in particolare le 7 pro scrivania regolabile in altezza gambe di colore nero piano che invece è diciamo personalmente ho selezionato nella colorazione acero anche se poi in realtà è possibile scegliere fra una miriade di piani c'è davvero una grande possibilità di personalizzazione attraverso il sito di flexi spot peraltro vi segnalo che il colore acero è decisamente più scuro rispetto a quello che viene mostrato nelle immagini del sito quindi tenetelo bene a mente scrivania larga 120 centimetri profonda 60 centimetri regolabile in altezza con un intervallo che oscilla fra i 63.5 centimetri e i 128.5 centimetri quindi personalmente io sono alto circa 195 centimetri e impostandola anche un po meno del massimo riesco comodamente a lavorare anche stando in piedi per cui ho la possibilità di alternare la posizione seduta a quella in piedi che devo dire soprattutto per la mia schiena è una manna una manna dal cielo riesce a reggere un carico di 160 kg per cui davvero potete mettere sulla scrivania qualsiasi dispositivo e poi ha tutta una serie di chicche che devo dire fanno poi la differenza nell'utilizzo quotidiano innanzitutto la regolazione dell'altezza si gestisce comodamente da un display posizionato sulla parte frontale con dei comandi a sfioro e un comodissimo display led che appunto mostra l'altezza selezionata è possibile preimpostare degli intervalli di altezza quindi magari vedete c'è l'icona dell'omino seduto l'icona di quello in piedi quindi potete preimpostare le altezze per lavorare da seduto e stando in piedi cosicché dovete poi solo premere quei pulsanti e la scrivania si posizionerà alle altezze desiderate peraltro questo piccolo pannello di controllo ha sul lato destro una comoda porta usb che permette di ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico perché ovviamente come potete immaginare trattandosi di una sedia che si regola elettricamente di fatto è collegata e deve essere necessariamente collegata all'elettricità in più sulla parte diciamo al di sotto del piano di lavoro è posizionata la griglia per nascondere i cavi che devo dire molto efficace permette di avere un cable management decisamente decisamente ordinato e quindi questa è la scrivania la base del mio desk setup per il mac accanto alla scrivania non si può che parlare della sedia altro elemento indispensabile soprattutto importantissimo in un desk setup che sia comodo ed efficace nella quotidianità personalmente mi sono affidato ad amazon per l'acquisto della mia sedia e quindi è stato un acquisto anche un po al buio ma poi sapete che con la politica di racy amazon comunque mi dava la possibilità di testarlo qualche giorno per comprendere se effettivamente poteva essere il prodotto che faceva al caso mio e ho scelto una sedia ufficialmente una sedia da gaming prodotta dalla razor si chiama la razor enki prezzo di 499 euro in realtà in questo momento anche qualcosina in più poco al di sopra dei 500 cifra importante ma vi posso dire ragazzi che è un acquisto che rifarei altre mille volte l'ho comprata a gennaio del 2023 utilizzata tutti i giorni per oltre un anno e mezzo e come vedete è praticamente pari al nuovo funziona come dire la pelle il rivestimento non ha minimamente subito problematiche di qualsiasi tipo è perfettamente intatta ma davvero complessivamente la sedia si è mantenuta molto bene si tratta ovviamente di una sedia con le rotelle per cui ci si può serenamente spostare all'interno dell'ufficio anche da seduti regolabile in altezza si possono regolare i braccioli in altezza quindi ci si può davvero in qualche modo si può impostare la seduta rispetto a quelle che sono le proprie esigenze c'è un comodo cuscino che in qualche modo supporta la cervicale e soprattutto la possibilità di spallarsi avviene con tutta la sedia quindi non solo lo schienale ma anche la seduta e questo è un aspetto molto importante per mantenere una postura corretta anche quando ci si schiena perché magari ci si sta rilassando un attimo sedia che devo dire ormai lo ripeto mi accompagna da un anno e mezzo ha questo materiale come dire questo materiale questa pelle questa similpelle che devo dire è molto piacevole al tatto ed è anche piacevole quando ci si siede soprattutto non genera troppo calore durante la stagione la stagione estiva complessivamente devo dire una sedia che mi sento di considerare ad occhi chiusi un po' come la scrivania di flexi spot che ripeto sta restituendo una bellissima esperienza anche come come dire come esperienza al tatto del piano di lavoro probabilmente l'unico difetto che trovo nella razor enki è il fatto che la seduta è leggermente un po' rigida e quindi magari chi ama le sedute un po' più morbide potrebbe trovarla scomoda ma qui ragazzi sulla sedia è davvero una questione soggettiva per cui il consiglio è quella di provare un modo per provarla prima per testarla prima di effettuare l'acquisto ma detto questo questa sedia davvero promossa a pieni voti e soprattutto pur essendo una sedia rivolta al gaming è una sedia non pacchiana da un punto di vista estetico quindi è molto minimal ed era un aspetto che mi premeva molto per il mio desk setup chiarita la parte su scrivania e sedia passiamo adesso ai pezzi forti e come vedete il mio desk setup è un po' dominato dallo studio display di apple attenzione studio display non il pro display xdr che è la versione più costosa e soprattutto la versione come dire rivolta a professionisti di una certa nicchia lo studio display è diciamo la versione base dei display di apple pannello da 27 pollici con risoluzione 5k prezzo di distino di 1799 euro questo display lo si può configurare sia con il vetro standard che la mia versione sia con il vetro nano texture che è la stessa logica con cui oggi si può scegliere il vetro che protegge lo schermo di ipad pro m4 però insomma devo dire che il vetro standard mostra già una buona con un buon trattamento contro il riflesso per cui devo dire che mi ci trovo molto molto bene è possibile anche scegliere la tipologia di stand quindi tra quello regolabile in altezza che costa di più è quello che si può solo inclinare che è quello del mio del mio monitor quindi in realtà è un display con cui si possono superare serenamente i 2000 euro nel caso specifico la mia versione di listino costa 1799 euro ora vi racconterò alla fine di questo video in realtà come questo è uno di quei prodotti che sono riuscito ad acquistare ad una cifra molto più bassa rispetto al prezzo di listino e vi racconterò come al di là comunque di questo aspetto è secondo me un prodotto sicuramente sovrapprezzato non vale 1800 euro ma alla cifra a cui l'ho pagato io secondo me ha tutto il senso del mondo perché tralasciando un attimo l'aspetto economico questo è un display perfetto da abbinare ai mac perché peraltro oltre a essere riconosciuto immediatamente da tutti i dispositivi apple alla webcam ha degli altoparlanti peraltro degli altoparlanti di ottimo livello quindi risolve anche il problema di come dire di mac che magari non hanno gli altoparlanti vedi il mac studio e poi ovviamente devo dire offre una qualità di visione di altissimo livello io lo utilizzo con piena soddisfazione anche per il montaggio video e devo dire che restituisce anche una fedeltà cromatica molto molto buona per cui insomma un display con cui mi trovo davvero molto molto bene certo ha un solo una sola porta usb c sul retro che invia il segnale video perché lui non permette di collegarsi contemporaneamente a livello video a più dispositivi sul retro poi troviamo anche altre tre porte usb c che servono per espandere la connettività del mac a cui viene collegato quindi sono porte che possono essere sfruttate per collegare poi al mac delle periferiche al disco esterni eccetera eccetera complessivamente devo dire che è un monitor che mi sta piacendo tanto certo il fatto di non avere la regolazione in altezza nella mia versione effettivamente può risultare un po scomodo però il fatto che io abbia a disposizione la scrivania regolabile in altezza la sedia regolabile tutto sommato è un qualcosa che non mi sta pesando e ho trovato come dire la mia configurazione giusta a livello di altezze però tenetelo bene a mente detto questo schermo bellissimo devo dire mi sta piacendo tanto ed è oggettivamente un acquisto che rifarei ma al prezzo a cui l'ho acquistato di cui vi parlerò alla fine del video accanto all'apple studio c'è il mac studio e devo dire che anche questo è stato un acquisto fatto a una cifra molto più bassa rispetto a quella di listine anche qui ripeto bene parlerò per bene alla fine del video perché ho scelto il mac studio perché una parte consistente del mio lavoro è quello del giornalista quindi scrivo tantissimo e quindi ho una produttività molto elevata tramite il browser web e secondo me il mac studio nella mia configurazione era la macchina ideale soprattutto non pagandola quanto costa con il prezzo di listino io ho la prima versione del mac studio quindi con m1 max 32 gb di ram 512 gb di ssd prezzo di listino di 2449 euro una macchina che devo dire ho ormai da 6-7 mesi mi ci sto trovando davvero molto molto bene silenziosissima quindi comodissima per la produttività tramite browser web ma comunque una macchina molto potente anche in questa configurazione e che personalmente utilizzo anche per tutta la parte di editing fotografico con photoshop e per tutta la parte di montaggio video per i video più corti quindi gli shorts magari video per determinati clienti che vogliono il formato piccolo perché oltre ai video per il mio canale youtube io produco anche tanti video per tutta una serie di aziende clienti della mia startup di cui peraltro non vi ho mai parlato e ho intenzione di portarvi un video ad hoc sul mio sul mio canale in ogni caso insomma una macchina che mi è piaciuta tantissimo mi sta piacendo tantissimo e devo dire anche questa probabilmente una macchina un po sovrapprezzata almeno nella versione base però è una macchina che se si riesce ad acquistare ad una cifra sensata restituisce davvero tante tante soddisfazioni vi porterò poi col tempo sul canale la recensione di questo mac studio dell'apple studio display insomma una recensione ovviamente diversa dal solito perché avrò la possibilità di parlarvi di macchine con cui ormai ho a che fare davvero da mesi tutti i giorni e di cui posso raccontarvi davvero vita morte e miracoli accanto al mac studio c'è poi un macbook pro da 14 pollici vi ho portato la recensione sul canale di questo prodotto stiamo parlando di una versione top di gamma del macbook pro da 14 pollici attuale perché parliamo di una configurazione con m3 max versione da 14 core per la gpu 30 core per la gpu 16 core per il neural engine 96 gb di ram e 4 terabyte di ssd 6169 euro prezzo esagerato per una macchina che come potete immaginare è la macchina che personalmente utilizzo per il montaggio video e anche qui montaggio video che non è solo il montaggio video del mio canale youtube ma è ovviamente anche il montaggio video per tutti i clienti per cui appunto produco i contenuti video vi ho parlato in maniera approfondita di questo computer vi linko la recensione da qualche parte andate da recuperare macchina con una potenza mostruosa dissipazione del calore perfetta ovviamente nel mio desk setup la utilizzo chiusa all'interno di questo supporto che state vedendo nelle clip video supporto che si chiama maccali wc stand pagato poco più di 30 euro su amazon supporto in metallo che si può allargare e quindi può accogliere anche mac con uno spessore maggiore rispetto a questo da 14 pollici a un macbook e devo dire che fa il suo riesce a tenere in maniera molto solida il mac in questa posizione da richiuso perché ovviamente utilizzo il macbook pro da richiuso perché poi come vedrete ho delle periferiche tastiera e trackpad con cui gestisco anche il mac studio e in realtà anche l'ipad pro e soprattutto perché ho scelto di avere due mac separati quindi uno per la produttività tramite per il browser web e uno per il montaggio video perché soprattutto il montaggio video in ambito professionale è un'attività che porta a gestire una valanga di file veramente una valanga e preferisco avere una separazione fra i due flussi di lavoro anche per una questione di ordine di backup insomma è stata una scelta ponderata ed è una scelta che sinceramente rifarei quali sono le periferiche che utilizzo collegate al mac studio al macbook pro ma in realtà anche all'ipad pro di cui vi parlerò a breve beh per quanto riguarda la tastiera non ho scelto la tastiera apple ma ho scelto una mx keys di logitech ed è una scelta che rifarei altre mille volte prezzo di listino di circa 130 euro tasti retroilluminati corsa di 1,5 mm comodissima per scrivere batteria ricaricabile ricaricabile con usb c e devo dire che ha anche un'ottima autonomia soprattutto la possibilità di essere collegata contemporaneamente a tre dispositivi differenti con il classico tasto funzioni di logitech che permette di switchare da un dispositivo all'altro e quindi semplicemente premendo un tasto avendo fatto all'inizio la prima configurazione posso utilizzarla al volo sul mac studio sul macbook pro sull'ipad pro ora lei viene venduta con in abbinata la solita chiavetta che rappresenta il ricevitore bluetooth che in qualche modo permette l'accoppiamento immediato tra la tastiera e il dispositivo a cui la collegate però vi posso dire che trattandosi di una tastiera bluetooth a tutti gli effetti riesce a funzionare anche senza il ricevitore per cui ho il ricevitore collegato al mac studio perché in assoluto il prodotto con cui la utilizzo di più e riesco poi a switchare anche senza ricevitore sul macbook pro e sull'ipad pro tastiera bellissima sensazione al tatto dei tasti quasi felpata devo dire mi ci sono trovato molto bene poi a questa sensazione di incredibile solidità grazie al telaio realizzato con un mix di policarbonato e alluminio davvero un bellissimo lavoro da parte di logitech vi segnalo peraltro che viene prodotta anche in una versione che ho con me in una seconda versione che è compatibile contemporaneamente sia col mac che con windows e ve ne accorgete proprio dal layout dei tasti perché appunto c'è sia il command del del mac che il pulsante di windows per cui qualora magari abbiate un desk setup con entrambi i sistemi operativi potrebbe essere la tastiera a cui far riferimento per quanto riguarda invece il mouse ovviamente il magic trackpad di apple per me insostituibile perché è l'unico che riesce a replicare ad avvicinarsi a quello che è il trackpad dei macbook che rappresenta una delle chicche dell'azienda di cupertino funziona benissimo ovviamente incredibilmente come dire compatibile con tutte le gesture del mac prodotto per me insostituibile ci si deve fare un po la mano al trackpad al magic trackpad ma vi posso dire che una volta che ci si abitua non si torna più indietro prezzo di listino nel caso specifico di 160 euro io ho questa versione grigio siderale devo dire secondo me molto bella esteticamente che si abbina benissimo con la mia mx keys di logitech purtroppo però questo magic trackpad si ricarica con il cavetto lightning perché ha una porta lightning e questo è l'unica nota negativa di un prodotto davvero meraviglioso e veniamo all'ipad pro che vedete posizionato alla sinistra alla mia sinistra diciamo alla destra del monitor ipad pro io ho l'ipad pro m1 da 12,9 pollici versione base 128 giga solo wifi all'epoca venduto a poco più di 1200 euro secondo me in questo momento uno dei migliori o meglio più che in questo momento uno dei migliori ipad che apple abbia prodotto negli ultimi anni perché perché il fatto che abbia l'm1 li sta consentendo di avere una longevità incredibile lui sta ricevendo tutte le ultime funzionalità di ipad os sarà compatibile con apple intelligence mette a disposizione ancora una potenza enorme con l'm1 che eventualmente permette anche di utilizzarlo per il montaggio video con final cut pro per l'editing fotografico anche abbastanza spinto insomma prodotto davvero eccezionale che sta tenendo molto bene molto bene nel tempo ma soprattutto è un prodotto che io utilizzo in abbinata alla kensington studio dock per ipad pro accessorio che ho recensito sul canale che torno a ripetere per me è uno dei migliori accessori che possiate abbinare all'ipad perché perché una docking station quindi permette di ricaricare la batteria dell'ipad grazie alla presenza di una porta usb c l'ipad si incastra in maniera magnetica su questa piastra nera di cui è dotata questa docking station soprattutto è una docking station che aggiunge una serie di porti all'ipad c'è il jack audio c'è il lettore per le schede sd c'è una porta usb c un hdmi per collegarlo a monitor esterni tre porte usb e persino il connettore ethernet per internet ad alta velocità per cui di fatto può davvero diventare l'ipad il centro della vostra del vostro desk setup soprattutto permette di orientarlo in orizzontale in verticale di regolare l'inclinazione e io con la docking station posizionata nel mio desk setup ho ricominciato a dare un senso all'utilizzo quotidiano dell'ipad perché ce l'ho sempre accanto a me diventa uno schermo aggiuntivo per il ciò che sto facendo con il mac diventa lo strumento con cui magari ascolto un contenuto multimediale mentre sto lavorando diventa lo strumento con cui firmo al volo magari i pdf dell'embargo di un dispositivo che mi è arrivato in prova insomma per me dispositivo come dire accessorio assolutamente imprescindibile per l'ipad in più sulla parte frontale c'è questo tappetino che permette di ricaricare in maniera wireless gli auricolari true wireless ovviamente compatibili con la ricarica wireless e lo smartphone e in più vicino alla c'è diciamo all'aggancio dell'ipad è possibile anche ricaricare l'apple watch ad induzione qualora ovviamente lo abbiate per cui combo secondo me insostituibile incredibilmente comoda davvero prodotto che purtroppo costa 4 99 di listino lo si trova attorno ai 350 euro adesso io l'ho pagato molto meno perché l'ho presi da amazon warehouse durante un black friday quindi con un ulteriore 30 per cento di sconto prodotto che davvero per me è oggi imprescindibile da utilizzare assieme all'ipad e infine gli ultimi due accessori vedete questo tappetino con i led rgp attorno allora led rgb che sono semplicemente un vezzo estetico ma il tappetino è molto molto utile perché aumenta tantissimo il grip in generale della tastiera del trackpad che rimangono sempre fermi quando si scrive quando li si utilizza e soprattutto rappresenta anche un supporto molto comodo per i polsi perché appunto ha questa superficie di fatto quasi in gomma piuma che è davvero molto molto comoda ovviamente impermeabile è prodotto da razor si chiama il razor goliatus e costa circa 80 euro anche questo un altro di quegli acquisti che rifarei di nuovo anche per una questione di protezione del piano di lavoro della scrivania e poi vedete che ci sono dei led rgb anche alle spalle della scrivania e quella è una semplicissima striscia led della wiz che per chi non lo sapesse è un brand che fa parte della galassia philips hue quindi compatibile con tutto l'ecosistema philips hue striscia led da due metri che si può tagliare il modello specifico ovviamente rgb per cui sia luce calda fredda che luce colorata costa circa 60 euro ma in realtà su amazon la si riesce a trovare a cifre decisamente più basse e dunque questo è il mio desk setup per il mac ci tengo a sottolineare un aspetto perché secondo me può essere un approccio molto utile per tanti di voi pensiamo a due prodotti come l'apple studio display e il mac studio che come detto non ho pagato con i prezzi di listino ho pagato molto meno in particolare l'apple studio display 799 euro contro i 1799 di listino quindi mille euro in meno rispetto al prezzo di listino il mac studio 1299 contro i 2449 di listino quindi come dire sconti molto importanti come ho fatto per cui vi do un trick che probabilmente potrebbe valere per tutti i punti vendita media world ovviamente vi segnalo quella che è la policy del punto vendita media world vicino a dove abito io quindi il media world di santa caterina a bari che succede sapete che all'interno dei media world c'è sempre il corner apple quando apple presenta i prodotti nuovi e quindi i prodotti in esposizione di quel corner devono essere rinnovati quei prodotti da esposizione vengono posizionati in super offerta come fosse una sorta di outlet dei prodotti ricondizionati dal punto vendita e quindi io sono riuscito ad accaparrarmi questi due prodotti a cifre veramente molto molto più basse rispetto a quelle di di listino ed è stato veramente un affare ma discorso analogo per esempio per la kensington studio doc per ipad pro 499 di listino io sono andato a ricontrollare sul mio account amazon l'ho pagata 125 euro grazie a quell'offerta del 30 per cento di sconto sul warehouse per cui anche qui è un desk setup molto costoso e i mac in generale sono prodotti molto costosi però cercate di come dire badare bene alle offerte scandagliate il web scandagliate i negozi fisici perché molto spesso possono venire fuori queste chicche di cui vi ho raccontato detto questo io sono incredibilmente soddisfatto del mio desk setup per me è davvero un privilegio essere riuscito a mettere in piedi una postazione di questo tipo perché davvero è una postazione che mi permette di avere una produttività incredibile e soprattutto di poter godere di una qualità nell'utilizzo di queste macchine tutti i giorni che davvero svolta e ha svoltato la mia attività lavorativa io ovviamente vi lascio in descrizione il link all'acquisto a tutti i dispositivi fatemi sapere se avete dubbi o domande fatemi sapere qual è il vostro desk setup quali sono i prodotti che utilizzate tutti i giorni se il contenuto vi è piaciuto mettete like condividete iscrivetevi al canale insomma lo sapete che per me sono sempre cose molto importanti per far crescere questo progetto io per oggi ho concluso e noi ci vediamo nei prossimi video